...sorpresa e presumo che questo sia una sorpresa, non lo è per la città di Manostica che li vedono spesso... ...perché sarà lei, hanno detto che con... ...le percussioni, i tamburi storici... ...sechs minuten am start... ...due, uno... ...go! Andate Pirati, andate Protagonisti! Buona quarta edizione della Fisic, Città di Manostica! Arrivederci! Ricci, in tutte le mani! Grazie! 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 Ehi, io ho 4-5 dietro. Grazie, forse siamo troppo hâmpi, perché le macchine si muovono. Forse siamo troppo hâmpi, le macchine si muovono tutte. Attenzione all'arrivo, quindi confermiamo, arrivo per il numero 36, che da solo si tratta di Marco Piochisato, Italia, riceve complimenti quindi da parte anche del comitato organizzatore, riceve una confezione nel cuscinetto Tecnogel, una borsa giordana, una felpa della Fisic, olio lubrificante e anche un tecnologico prodotto della Garmin, anche la Garmin presente come sponsor tecnico e soprattutto un po' fia di gioia, questo è il podio delle mezzo. Nuovamente quindi da Niccolò Indos ed ora anche a lei quindi un omaggio. cazzo, ma sto qua è senza numero. Vedete, più di un minuto. parte che però, parte che è. di un minuto. 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 Grazie a tutti. 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 Le prime cinque classificate sono desiderate immediatamente all'interno della piazza per dar via alla cerimonia di consegna dei premi da parte delle autorità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.